Buongiorno a tutti da Roberto Quaglia. È di nuovo la fine dell'anno. Sembra incredibile, ma succede alla fine tutti gli anni. E allora tipicamente ci tocca fare i bilanci dell'anno appena trascorso. Ognuno fa il suo, ma poi c'è anche un signore che tradizionalmente fa un bilancio per tutti noi italiani, ed è il Presidente della Repubblica, che in teoria serve più o meno proprio per cose di questo tipo, insomma per rappresentarci tutti insieme mentre veglia sulla Costituzione. Da qualche tempo però abbiamo un problema a riguardo, ed è quello che anno dopo anno sempre più cittadini non si sentono più rappresentati da quella che formalmente è la più alta carica dello Stato. Questa, lo tengo a precisare, non è una mia opinione, è proprio un fatto oggettivo riscontrabile chiedendo in giro, facendo sondaggi, ed è quindi un fatto molto grave, almeno per chi volesse prendere sul serio lo Stato. Uno dei molti, e peraltro dei minori, problemi che nascono quindi da questa non rappresentanza è che il tradizionale discorso di fine anno del Presidente non è più soddisfacente, anzi risulta addirittura frustrante per una percentuale crescente di italiani. E questo a prescindere da chi sia il Presidente in un dato momento, dato che un po' di anni a questa parte i Presidenti a Capodanno dicono tutti le stesse cose, ovvero fatti che la gente percepisce come non reali, oppure fuorvianti, oppure non rilevanti, mentre invece vengono sistematicamente omesse dal discorso tutte quelle realtà scomode e di problemi davvero cruciali del Paese di cui molti cittadini hanno preso consapevolezza e dei quali il Presidente non parla. Nasce quindi la necessità di un contraddiscorso di fine anno e per qualche anno assolse a questo compito Grillo, però anche lui oggi pare aver divorziato in malo modo dagli italiani. E allora eccomi qui nel mio piccolo a controparlare, idealmente anch'io a rete unificante, però noi non abbiamo reti, quindi più realisticamente a retticelle in ordine sparso. Ebbene, finisce oggi il 2019 e con esso terminano quelli che in futuro saranno noti come gli anni 10 del ventunesimo secolo. Già perché ci siamo sciroppati un altro decennio. E così domani entriamo negli anni 20. Il decennio che in Occidente probabilmente vedrà la montante distopia dilagare incontenibile. Pochi giorni fa il Corriere ci ha preannunciato il probabile arrivo della carta di identità su smartphone. Beh, che se non erro vorrà dire che ci sarà obbligo di smartphone per tutti in futuro. E magari, immagino io, con multe salate a chiunque si faccia trovare col telefonino scarico. Un inferno insomma. Un inferno a cui ci si potrà però forse sottrare facendosi impiantare sottopelle dei comodissimi microchip. Proprio come oggi si è allegramente iniziata a fare in Svezia. Microchip che provvederanno a regolare tutti i nostri rapporti economici e burocratici col mondo esterno, rendendoci più liberi da impegni e soprattutto sereni. almeno fino al giorno in cui, per errore, commetteremo distrattamente un crimine d'odio. Non chiedetemi cosa sia un crimine d'odio, io non lo so e non lo saprete nemmeno voi quando lo compirete. Si tratta di una nuova categoria di crimine, un crimine liquido, un crimine che può assumere qualsiasi forma, inaspettatamente. Ve ne accorgerete però quando il vostro microchip impiantato, oppure i documenti di identità e portafoglio elettronico nel vostro telefonino se sarete all'antica, smetteranno di colpo di funzionare. Proprio come nel film Minority Report. Ed improvvisamente scoprirete di non essere più nessuno e di non possedere più nulla e nessuno sarà autorizzato a prestarvi nulla per non diventare essi stessi dei pari. Ma non precoriamo adesso i tempi, stiamo divagando con gli spoiler delle meraviglie del decennio che verrà e invece torniamo al 2019, iniziando dalle buone notizie. Il mondo c'è ancora. Ecco la buona notizia numero uno. Direi un'ottima notizia, viste le premesse. Io in realtà facevo il tivo per l'asteroide, però questo adesso non conta. Alla fine anche quest'anno ce l'abbiamo fatta. E non è una cosa da poco se si pensa che l'anno scorso si è chiuso con l'orologio dell'Apocalisse, quello che indica il rischio della fine del mondo causata da umani, tipicamente mediante una guerra nucleare, con l'orologio dell'Apocalisse segnare il suo valore peggiore da sempre. Due minuti e mezzanotte. Ex equo con il 1953, quando gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica testarono le loro prime bombe termonucleari e la guerra terminale sembrava lì per scoppiare da un momento all'altro. Ebbene, oggi il rischio è esattamente lo stesso. Ma la differenza davvero abissale è che all'epoca la gente lo sapeva. Ed era giustamente preoccupata. Mentre oggi, grazie alla totale omertà dei media sul tema, la maggioranza della gente non ne ha proprio la benché minima idea. E quindi nessuno si preoccupa. In questo scenario l'Italia è allegramente in prima linea, ospitando sul nostro territorio 60 missili nucleari destinati contro la Russia. Ma con un po' di fortuna al prossimo anno questo numero potrebbe cambiare. Infatti pare che noi si vada al raddoppio. Gli americani potrebbero infatti spostare 50 missili nucleari attualmente a distanza in Turchia e piazzarli, indovinate dove, ma proprio in Italia, raddoppiando così la minaccia che noi costituiamo per la Russia. Un affarone. Insomma, si prospetta festa grande in Italia nel prossimo decennio e con i migliori fuochi d'artificio di tutto il continente. Comunque torniamo al lato positivo. Per intanto siamo sopravvissuti un altro anno. E anche quest'anno Trump non ha iniziato nessuna nuova guerra. Incredibile. Se è vero, Trump è antipatico, è in e-tweet di tutti i colori, sembra sempre ad un passo dall'armageddon, i benpensanti strillano che lui è il più grosso pericolo per il mondo, però non si può non notare che sino ad ora, in linea di massima, Trump sta evitando di fare quello che hanno fatto in abbondanza tutti gli ultimi presidenti americani. E cioè bombardare, bombardare, bombardare. Insomma, al suo tempo e al suo posto Obama aveva già vinto un Nobel per la pace ed aveva già bombardato sette nazioni. Ed i benpensanti erano sicuri, anzi sicurissimi, e peraltro lo sono ancora adesso, che Obama fosse il portatore di pace nel mondo. Continuiamo quindi a capirne poco dei presidenti americani, però iniziamo a capirne di più di come funzionano i benpensanti. Il 2019 ha visto un netto progresso del benpensiero disponibile ai benpensanti. Il benpensiero è il pensiero giusto, approvato, certificato politicamente corretto, da pensare rigorosamente tutti insieme. Il benpensiero è naturalmente parente intimo del bispensiero, con il quale si dà volentieri il cambio nei cervelli attrezzati per importanti disfunzioni. Il benpensiero intende proteggersi dal malpensiero semplicemente vietandolo. Il malpensiero è per definizione tutto ciò che non è benpensiero. I benpensanti facilmente considerano il malpensiero un crimine d'odio, che essi odiano e quindi intendono vietarlo. Si può benissimo odiare chi odia, in ragione del fatto che si sia vietato l'odiare. A rendere ciò possibile occorre naturalmente il bispensiero, che come detto è in ampia dotazione ai benpensanti. I benpensanti ci sono sempre stati. È una categoria antica, che ricorre anche in letteratura, ma nel tempo volentieri è una categoria che cambia il nome dell'etichetta che li distingue. Sapete come funzionano le mode? Quest'anno, in Italia, i benpensanti hanno deciso di chiamarsi Sardine e sono scesi in piazza a manifestare contro l'opposizione. Eravamo abituati che i cittadini scendessero in piazza a manifestare contro il governo, contro gli abusi del potere. In rari casi che scendessero in piazza a manifestare a favore di un governo giusto, ma che scendessero in piazza a manifestare espressamente contro l'opposizione, contro il diritto dell'opposizione di farsi ascoltare dal proprio pubblico, beh, questa è una novità. Le Sardine sono scese in piazza essenzialmente perché odiano Salvini, accusando Salvini di fomentare l'odio. Scopriamo così che l'odio è come il colesterolo. C'è quello buono e c'è quello cattivo. Il pesce contiene, come si sa, omega 3 e quindi l'odio di Sardina contro Salvini è odio buono, odio extravergine, strillato a freddo. Per dimostrare di avere una visione politica che vada oltre all'odio per Salvini, le Sardine hanno allora stilato un decalogo. Io ho provato a leggerlo per poterne parlare, ma per quante volte io lo abbia letto poi non mi ricordo mai nulla e quindi ora non riesco a parlarne. Il fatto è che si tratta di un decalogo vuoto, addirittura imbarazzante nel non dire nulla, neppure riuscendo peraltro a far finta di dire qualcosa. Provate anche voi a leggerlo e poi a ripeterlo con parole vostre a qualcun altro. Scommetto che non ci riuscirete, anche se fosse una sardina, perché in effetti non c'è nulla da dire. Qui siamo a metà strada fra il manuale delle giovani marmotte col decalogo dei buoni sentimenti e l'elettroencefalogramma piatto. Eppure i grandi media per qualche tempo si sono infervorati a non parlare d'altro. Siamo di fronte alla magia della creazione di finti movimenti politici caratterizzati dalla totale assenza di contenuti, ma ripieni di buoni sentimenti. Qualcosa che sempre quest'anno abbiamo visto con la creazione a tavolino del fenomeno Greta, la povera ragazzina affetta da Asperger intorno al quale si è costruito un incredibile circo mediatico. Nell'enunciare l'assolutamente ovvio, Greta in realtà non dice nulla. Ma su questo nulla i potenti, i quali guarda caso coccolano e vezzeggiano Greta, incoraggiandola a sgridarli, possiamo star certi che costruiranno qualcosa. E possiamo anche star certi che questo qualcosa sarà infine volto contro di noi cittadini e non ci piacerà. Greta, Sardine, siamo ormai allo stato dell'arte di narrazioni vuote, che pur prive di contenuto, perfettamente attecchiscono nell'immaginario pubblico, poiché rese suggestive ad arte. Il vuoto che sembra un contenuto per il solo fatto di cambiare contenitore. E diversamente dagli autentici contenuti non è confutabile. Come si fa a confutare quello che dice Greta? O quello che dicono le Sardine? Non si può. Ed è questa la loro forza. Non c'è niente da confutare perché il nulla è inconfutabile. Dal mito dell'immaginazione al potere alla realtà del nulla infiocchettato al potere. La transizione è completa. I grandi media mainstream ormai parlano solo del nulla o dell'irrilevante, spingendo la società verso la realtà rappresentata benissimo nel film Idiocracy. Parlano di Greta e di Sardine, mentre tacciono intensamente, per esempio, dei gilet gialli in Francia. Ma insomma, dico io, in Francia persiste da più di un anno uno stato di guerriglia permanente, con la rivolta popolare contro le élite, rappresentata dai giletti gialli, che ha portato a violenti scontri in strada tutte le settimane. E ci sono morti, e ci sono feriti in abbondanza. E tutti i giornali mainstream italiani in un anno non se ne sono ancora accorti. C'è stato anche un ragazzo che si è dato fuoco in pubblico per protesta, un novello Jan Palak, una di quelle storie normalmente destinate a diventare leggenda. Ma ne avete mai sentito parlare nei telegiornali RAI? Si tratta di una censura che definire clamorosa è dir poco. Parlano e straparlano dei disordini di Hong Kong, che è in capo al mondo, e tacciono sistematicamente sui disordini che accadono dai nostri vicini di casa. Oltre che l'anno oggi, come detto, finisce anche un decennio. Gli anni dieci del ventunesimo secolo. Un decennio, direi, tragico per l'Italia, che a partire dal governo Monti, che si è insediato surrettiziamente nel 2011, ha visto la distruzione intenzionale e sistematica del sistema Italia, da parte di attori politici in completa obbedienza a poteri sovranazionali. Ne scrissi già nel 2012, quindi quasi ad inizio decennio, nel mio blog, in un pezzo titolato La demolizione controllata della classe media è appena iniziata, verso la vittoria finale dei criptocrati. La mia tragica profezia di allora si sta avverando. In quell'articolo misi fra l'altro in guardia contro il famigerato MESS. Era il 2012, del MESS il giornalismo mainstream si guardava bene dal parlare, e così il Parlamento lo votò quattro quattro nel silenzio tombale dei media. Fra gli oltre 1700 giornalisti e libro paga della RAE, apparentemente nessuno si accorse del MESS, e non se ne sarebbero accorti per altri sette anni. Era solo materia per noi complottisti, e uso qui intenzionalmente il termine dispregiativo che il mainstream usa per sminuirci. Prima o poi diventerà un titolo di vanto. Col senno di prima eravamo allora davvero in pochi a parlare degli orrori del MESS. MESSORA fu uno dei più attivi, fu colui che lo spiegò meglio. Oggi, col senno di poi, improvvisamente si sono accorti tutti del problema, però è tardi. Si prova a chiudere la stalla quando i buoi sono scappati. Questo 2019 ha pure segnato la demolizione controllata dell'esperimento populista italiano. Prima Salvini, nell'inebriamento dei sondaggi estivi, affonda a sorpresa il governo più popolare degli ultimi decenni. Poi i 5 Stelle, ancor più a sorpresa, decidono di suicidarsi, alleandosi con la forza politica contro la quale sostanzialmente erano nati. Il partito dell'establishment, il PD. Insomma, come spesso si suol dire in Italia, situazione tragica ma non seria. Subito dopo il pasticcio estivo nasce VOX, il nuovo partito lanciato da Diego Fusaro, un partito che si presenta armato di idee di sinistra e valori di destra. Sulla carta questa è una formulazione ineccepibile, direi, che riconosce che la vecchia dicotomia destra-sinistra è in questo momento storico superata dall'emergenza di una dicotomia più importante ed incalzante, la dicotomia alto-basso, fra l'elite dominante e le moltitudini dei dominati. Il tempo ci dirà se VOX saprà raccogliere consensi ed eventualmente crescere a partito di massa. Però dobbiamo prendere atto che VOX si rivolge alla testa degli elettori e non alla pancia. In Italia questo non ha mai portato da nessuna parte. Fra le buone notizie del 2019 c'è che c'è ancora Pandora TV. Il telegiornale di Pandora TV è ormai il migliore telegiornale sulla piazza per ciò che attiene alle faccende di politica estera. Mentre i telegiornali RAI, pagati con il canone degli italiani, ci nascondono i fatti del mondo che realmente contano, basti pensare alla censura totale sui tumulti francesi con i gillet gialli, e gran parte dello spazio dei telegiornali RAI è ormai riservata a notizie frivole come il lancio di nuovi dischi, la promozione di programmi di varietà televisive sulle reti RAI e poi l'immancabile gossip che la fa da padrone. L'unica fonte che oggi offre agli italiani il servizio di un telegiornale incentrato sui fatti di politica estera che davvero contano per il futuro delle nostre vite è Pandora TV. Altra buona notizia è la nascita di un nuovo video canale su web, questo in diretta, ed è Contro.tv, condotto al momento dai soli Massimo Mazzucchio e Giulietto Chiesa, ma che si spera che in futuro possa crescere. Infine l'altra buona notizia, la più grande, la più rilevante di tutte queste in questo ambito, è il grande salto di qualità operato da BioBlu, la rete web di Claudio Messora, rapidamente cresciuta fino a diventare l'unico autentico salotto televisivo dove si discutono le cose effettivamente importanti di politica nazionale, e non solo politica nazionale. Tutto ciò realizzato miracolosamente senza alcun denaro pubblico né pubblicità, mentre fiumi di denaro pubblico vengono invece carpiti tuttora agli italiani per sovrapagare pseudogiornalisti che poi in cambio mentono agli italiani su tutto ciò che davvero importa. Vediamo quindi oggi due Italie contrapposte in questa fine di anni dieci del ventunesimo secolo. Un'Italia che ha toccato al fondo, ma che non paga, si è messa a scavare, ed un'altra che stoicamente, quasi eroicamente, prova a reagire e rialzare la testa. Qui pochissimi mezzi che ha a disposizione. Il 2019 ha visto nuove tappe nel progressivo divorzio dalla realtà dell'intero mondo occidentale. Il Parlamento europeo ha votato una incredibile risoluzione nella quale stravolge addirittura la storia della Seconda Guerra Mondiale, equiparando nazismo e comunismo nella responsabilità dello scoppio della guerra. E poco dopo l'Unione europea non si fa problemi ad appoggiare il golpe fascista in Bolivia. È lo stesso Occidente che persevera a cercare con l'anternino diritti umani violati in capo al mondo, facendo prediche a destra e a manca, mentre contemporaneamente detiene illegalmente un giornalista, Julian Assange, reo soltanto di aver fatto il giornalista, di aver diffuso informazioni. A questo proposito devo però proporre una chiave di lettura che di norma sfugge agli analisti. Assange non viene mica perseguitato per quello che ha fatto, visto che quello che ha fatto non è per nulla un problema per gli Stati Uniti. Il fatto che sia un problema è soltanto narrativa, non regge l'analisi. Se i leaks di Wikileaks fossero davvero un problema, ma nessun giornale li pubblicherebbe. Tanto è vero, ad esempio, che sull'11 settembre Wikileaks non ha mai diffuso nulla e se lo avesse fatto nessun giornale lo avrebbe pubblicato. No, no, Assange viene sfacciatamente perseguitato per un'altra ragione. Viene perseguitato per dare un esempio e un avvertimento a tutti gli altri giornalisti. Per mostrare al mondo che se vogliono, essi possono. Essi possono fare tutto e possono farlo impunemente e nell'omertà generale. Assange non è il messaggero imprigionato. Assange imprigionato è il messaggio. Tutto questo mostra che stiamo entrando in un mondo distopico, ma eravamo stati avvisati. Nel 2019 è morto Vladimir Bukovsky, un celebre dissidente sovietico che in anni recenti aveva dichiarato che l'Unione Europea si stava trasformando in un sistema totalitario che a lui ricordava l'Unione Sovietica. Sono stato nel vostro futuro e non ha funzionato, dichiaro Bukovsky, che poi illustrò in lista tutte le agghiaccianti somiglianze fra le caratteristiche dell'Unione Sovietica e le caratteristiche dell'Unione Europea. Lo potete cercare in rete. In tema di totalitarismo dobbiamo notare che il pensiero unico è avanzato anche in questo 2019. I pensieri diversi dal ben pensiero, quelli che prima io ho chiamato il mal pensiero, sono sempre meno tollerati. Ed attendendo nella messa fuori legge vera e propria, che prima o poi arriverà, nel frattempo ci si mette la Trecani, a definirli una malattia mentale. Esatto, proprio come nell'Unione Sovietica chi pensa altrimenti oggi viene dichiarato pazzo. È addirittura dalla Trecani. La un tempo prestigiosa Trecani ha ora incluso la voce sovranismo psichico nel proprio dizionario, che significa, cito tistualmente Trecani, atteggiamento mentale caratterizzato dalla difesa identitaria del proprio presunto spazio vitale. Si faccia particolare attenzione alla parola presunto. Insomma, casa tua è un'illusione allucinatoria e se pensi che dovresti difenderla sei matto. Idem se credi che esiste l'Italia e credi di essere italiano. Sei matto. Per comprendere lo spirito dei tempi, puoi giocare a menzionare anche una proposta effettuata nel 2019 dal PD Friulano di rimuovere il termine famiglia dalla riforma sanitaria in fase di approvazione per sostituirla con l'espressione rete formale e informale della persona. Nel qual caso suppongo che padre di famiglia in futuro si dovrà trasformare in genitore uno della rete formale e informale della persona. E poi i matti saremmo noi sovranisti psichici. Cambiare il significato delle parole nell'epoca dell'analfabetismo funzionale in crescita è il colmo. Già nessuno ci capisce niente con le vecchie parole, con le nuove si raggiungeranno nuove cuspidi di sublime incomprensione. Le elite in passato hanno sempre tenuto il sapere, il vero sapere, inaccessibile al popolino. Oggi, che con l'ubiquità su internet delle nozioni questo non è più possibile, si procede in modo inverso. Si alimenta l'analfabetismo funzionale e alla fine è il popolino che è inaccessibile al sapere. E per inciso, se per caso non dovreste aver capito questa mia ultima frase, forse dovreste iniziare a porvi qualche domanda. Oggi quindi finiscono anno e decennio. Domani gli anni venti si apriranno con il tradizionale concerto di Capodanno. Al teatro di Vienna domani ci saranno tutti quelli che contano, i VIP, i politici, le grandi autorità. E tutti insieme dimostreranno il loro profondo spirito democratico, evitando di battere le mani durante la marcia a Radetzky. Eh già, perché battere le mani sarebbe nazista. Avete capito bene? Hanno proprio detto così. Battere le mani durante la musica sarebbe nazista. Poi magari appoggiano il golpe fascista in Bolivia e quando capita magari stringono anche le mani degli ucraini di settore destro che hanno invitato e ricevuto con tutti gli onori. Però combattere il nazismo si fa smettendo di battere le mani alla marcia a Radetzky durante il concerto di Capodanno nel teatro di Vienna. È la vittoria finale contro il fetticcio. Il fetticcio sostituisce il mondo reale. Mentre l'Occidente procede a grandi passi verso un nuovo totalitarismo, contemporaneamente esso combatte contro i fantasmi del passato con i riti voodoo, accanendosi contro i fetticci. Il nuovo anno, così come il nuovo decennio, l'Occidente li inizia quindi con un solenne rito voodoo. Il che mi ricorda una frase di Egno Flaiano. Deve esserci qualcuno che continua a spostare la soglia del ridicolo. Buona fortuna a tutti.